La sora Alvara va in Scozia al seguito della Fiorentina che incontra il Celtic. Approfitta per cercare una sistola perché possa seguire la figlia negli studi. Nella stessa occasione acquisterà un greggio di pecore scozzesi per fare un golfino al marito. Ecco fatto signora Cesira. E gli do anche sacchetto di cellofane grigio, fumo di Londra, con lo stemma della mia santa, vede? E la sigla della ditta sbalzata in oro, P-M-D-L-A-G-B-E-C, premiata a macelleria di lusso, Alvara, Girelli, Buhalossi e consorte. Oh, già che la scerna ci poteva mettere tutto l'alfabeto, così ci facevo studiare il mio figliolo. Quando per una cosa, quando per un'altra, lì è sempre a casa. Eh, problema della scuola, è un problema serio, cara, storia Cesira. Ma perché non fa come me? Io domenica parto in Areo per la Scozia. Per la Scozia. Ah, vuoi a Grascova a vedere giocare la Fiorentina. Figura. E già che sono lì nei paraggi e fa un sarto a Londra, e piglio una sistola per la mia bambina. E che la ripiglia una sistola? O che la vuole annaffiare perché la cresca più alla svelta? Ma che la dice, storia Cesira? Un'assistola inglese. Figura. Perché la stia dietro alla mia figliola negli studi e le insegni la lingua. Oh, un'assister, come ci sono in tanti istituti a Firenze. Eh, io che ho detto. Ma già che sono sul posto la voglio pigliare originale, vero? Dico io. Bene. Ecco a lei, sacchetto compreso. Grazie. E questa volta la vedrà che suo marito non ne tira dietro la miciccia. C'eriamo, eh. Arrivederla solo al bar, speriamo la di me. Arrivederla, arrivederla, grazie. Pedocchiosa. Pedovetti di lessola mi ha fatto perdere quasi mezz'ora. Stora Armida, tocca a lei, via. Meno male, a me la mi ha fetti due due. Due 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 due. Due chili di girello. No, due bracioline tenere, ma tagliate da qui il pezzo lì. Io ne ne taglio in dove la vuole, stora Armida. Ma la ciccia che c'è nei miei negozi, la la può le prendere occhi bendati. Sì, insomma il ragazzino le tira su numeri di lotto. E poi con lei non siamo sicuri a stare a occhi aperti, figuriamoci bendati. Io credo che la scherzi, vero. Ma la vada anche sull'uscia a controllare la miciccia. La faccio all'esame bandone, come susa dire oggi. La la picchi sulla sara cinesca per vedere se l'è dura o tenera. E tenera la sarà anche tenera, ma con questa braciolina che lascia a mano, meglio che l'esame bandone ci si farebbe l'esame contro luce. E lei ha un velo. Eh sì, ma un velo meraviglioso. Un velo dipinto di rosa. Guardi, però se non la vuole, ne ne taglio più grossa da quest'altro pezzo. Eh, a proposito di pezzo, come diceva la sora Cesira. Era un pezzo, noi non ci si recavamo all'estero. E così, approfittando, e la squadra viola, la gioca, coi cialciche. Le cicche? Perché senza le cicche? Corina, no, e mandala a vedere se l'è un'idea, cerci che è la squadra campione di Scozia. E la gioca contro la Fiorentina per la Coppa dei Campioni, che si vincerà a noi. Perché se si dovesse perdere lo scudetto, almeno la Coppa, non ne ne vuole dare alla squadra viola, eh. Io gli do la Coppa, la soffrassata, e che la vuole lei? Basta che a me la mi dia le bracioline, oppure... Ecco, ecco, e ne sto accartando, non vede. Dunque, è così, come le dicevo, dato che sono sul posto, voglio prendere anche una quarantina di peori scozzesi di lana buona, per fare un golfino a mio marito. Brava, e così dopo la lattosate per fare il golfino ai suo marito, con 46 ore la ci fa 80 agnelli e la li vende per poco. Non ci mancherebbe altro. Donna Alvarra Girelli Bualossi non ha bisogno da passarsi a fare certe cose. Ma, grattari, un etto su due eti di lessaccio spranto, sì, e questa, questa volta glielo tiro dietro e io glielo tiro. Oh, oh, citrullo, ma che impazzita? E lei mi rende il sacchetto, sa che mi costa 30 lire. No, e ci metto la nettezza, che è la meglio della sua ciccia. L'ha ragione, sora Cesira, e io contesto le bracioline. Andate fuori, andate fuori dalla mia boutique. Beceri, cimiciose, marviventi, brutte rifiolone sbrindellate, cenciose, cimbardose, purciose, ignoranti e fatte male addosso. E ringraziate che sono una signora, se no ve ne dicevo due. Bigià, se dovessi riaprire un negozio, o intorno a Bonio, nulla. I galiffe, artavita, aristocrazia o nulla. Si riscotterà poco e ondate successive, ma almeno non avrò contatti terragnoli. Guarda un po' che gente, questo basso scetto, vero? Dico io, che gente.